Siamo con il presidente della società bocciofila La Fiorita di Cervinare con cui andiamo un pochino a parlare della gara di ritorno del campionato regionale che si svolgerà qui stasera da qui a poco. Presidente, arrivare alle fasi regionali è già un buon risultato, però il risultato di 7-1 dell'andata sicuramente vi sfaurisce ma vi mette in una condizione di dover vincere per 7-0. Certo, certamente bisogna impegnarsi al massimo e cercare di ribaltare il risultato, senza togliere niente agli ospiti che sono stati bravi sul loro campo, però chiaramente noi cercheremo di fare il possibile per rimordare questo risultato. Ci auguro che ci vada bene, se no ci siamo divertiti, finisce qui perché poi sicuramente andranno loro avanti se vincono, che loro basta vincere due partite che supereranno il turno. Noi invece dovremmo vincere otto partite per superare il turno. Questo è tutto il discorso. Presidente, al di là della partita di oggi, della gara di oggi che è importante, la società bocciofila Fiorita di Cervinara ha un blasone da difendere e negli anni è stata sempre qualcosa di bello. Qualcosa di bello però sembra che negli ultimi tempi sia un pochino affievolita. Ci puoi spiegare il perché? Ma niente, siamo vedendo che soprattutto molte persone si sono iscritte quest'anno, perché abbiamo fatto un po' di investimenti sui campi sintetici, abbiamo rinnovato un pochettino, abbiamo sistemato un po' la struttura, anche perché qua ci vorrebbe una struttura comunale, ma non è possibile, non hanno mai provveduto a fare una cosa del genere. Però noi ci vogliamo divertire, per cui abbiamo un po' investiti tutto con le nostre forze. Presidente, chiudiamo quindi con una vena polemica, perché dobbiamo mettere anche questo. Il Comune non vi è vicino, amministrazione, sappiamo che è un periodo piuttosto particolare per Cervinara e per l'Italia in genere. Però quando c'è una società che investe di propria tasca, il Comune dovrebbe essere vicino. Fate un appello al Sindaco e all'amministrazione affinché vi sia vicino. Da questi microfoni lo potete dire tu? Sì, lo so, ma noi lo facciamo ogni anno in occasione della gara che faremo noi qui in estate. Praticamente le autorità comunali partecipano sempre, però fanno sempre la stessa promessa. Poi non lo so, per mancanza di fonte, per mancanza di soldi. Però comunque è una storia che va avanti da anni, è sempre così. Bisogna arrangiarsi. Siamo con il vicepresidente della società bocciofila Clemente Franco, a cui facciamo una domanda più pratica. All'andata sei uno dei componenti della squadra, quindi all'andata non avete fatto una bella figura. Stasera la promessa che fate ai tanti tifosi, perché anche nelle bocce sono tanti tifosi, che promessa fate? Soprattutto riuscirete a battere cava e ad andare avanti? Noi questa sera speriamo di vincere tutte le 7-8 partite per andare avanti. Facciamo tutto il possibile immaginare per andare avanti, per proseguire, per giocare a bocce. E Cervinara vi è sempre vicino, almeno tra di voi siete sempre compatti. All'andata come mai è andata così male? All'andata male perché abbiamo giocato male, quindi se vai a giocare fuori e giochi male naturalmente perdi.